È in gioco, pensate, una finale del campionato del mondo. Azione! Com'è questo mondo del cinema? Il colpo di testa è pieno di tiro! E' un roll di schiena! Ha scritto un copione che è una favola, una bomba. E entra nella storia del cinema! Volete fare gli sceneggiatori, ma non sapete fare gli spettatori. E' bellissimo fare gli spettatori, appassionarsi alle persone. Sono degli assassini, non hanno ammazzato loro. Sono immagini che non avremmo mai voluto commentare. Non mi lasciate sola, per favore. Io devo lavorare, devo fare l'amore, ho il diritto di essere felice! Te non sei solo. Forse c'era un destino, un disegno. Tutto ci portava qui. Tutto ci portava qui.